Ciao a tutti, 8 dicembre 2021, 0 gradi e noi guardiamo la prepotatura del CLST. Questo intervento ha lo scopo di raccorciare tutti i tralci presenti per evitare che siano di ostacolo all'azione dei rifinitori. La prepotatura può essere eseguita con una prepotatrice a barre o a lame. La prepotatrice può essere configurata a L rovesciata oppure a U rovesciata. Nel primo caso il filare deve essere percorso in andata e ritorno, nel secondo caso ovviamente deve essere percorso solo in andata. Ma andiamo a vedere l'attrezzo in azione. Nel CLST la prepotatrice non esegue un taglio definitivo in quanto tutti i tralci presenti saranno successivamente speronati a corona o una gemma franca dai rifinitori. Nel caso della potatura meccanica vera e propria, quella eseguita con meno di 20 ore per ettaro, non tutti i tralci vengono successivamente interessati dai rifinitori, ma di questo avremo modo di parlarne in un altro video. Con la prepotatrice configurata a L rovesciata, come in questo caso, servono indicativamente 2,5 ore per ettaro, che possono scendere a 1,5 ore per ettaro qualora si abbia una prepotatrice a 1 rovesciata. Vi ricordo che potete vedere la rifinitura manuale del CLST nel video già pubblicato vite la potatura del CLST.